Geremia Rodriguez è gay? Scoppia la possibile bomba dopo le foto pubblicate da Spio in cui si parla proprio delle notte brave del bell'argentino, fratello di Cecilia e Belen Rodriguez ed ex Jeffeno. Di lui non si parla spesso quando si tratta d'amore visto che più volte si è detto giovane e con tanta voglia di divertirsi. Dopo la piccola parentesi con la Intelicato, la sua ex fidanzata storica e lo scambio di attenzioni con Aida gli espica, sembra proprio che su di lui si possa continuare a chiacchierare anche in base agli ultimi gossip confermati dalla clan Josephine Muto. Sono lontani i tempi in cui versione uomo ballava proprio con le sorelle Rodriguez da Chiambretti, adesso parla con Josephine e racconta Dio spio di una serata di fuoco, o quasi, con il piccolo di casa Rodriguez, Geremia. Le rivelazioni di Josephine.Proprio insieme alle foto che li mostrano insieme in un locale milanese, Josephine ha raccontato, appena mi ha visto mi è venuto incontro. Io sulle prime ero un po' titubante, ma lui mi ha tranquillizzata. Mi ha detto non ho paura di niente e quello che mi piace me lo prendo. C'è stato un lungo bacio passionale incurante del fatto che tutti ci stavano guardando. Dopo siamo finiti in camera all'hotel Royal. E poi? Sono faccende private. Al momento solo lei ha parlato di quello che è successo e ha confermato le foto pubblicate dal settimanale mentre il giovane Jeremias non ha ancora detto la sua visto che le sue ultime dirette social risalgono a questa notte e lo mostrano in quel di Napoli insieme ad alcune amiche. Geremias Rodriguez è gay o si tratta solo di pettegolezzi nati in base ad alcune foto scattate mentre i due erano insieme ad altre persone che non dimostrano niente di intimo? Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like. Grazie a tutti.